A Scaldasole da un anno e mezzo Anila Rucci, Osman e Biliu facevano vita riservata, ma abitando in pieno centro e frequentando quotidianamente il bar in Piazza Castello erano volti piuttosto conosciuti. Forse vista di sfuggito una volta non la conoscevamo. Neanche lui? No, visto così magari forse passare così al bar o qualche cosa. Ma era sempre un ragazzo per suo conto, non parlava tanto. Lei qualche volta succedeva qua, faceva due chiacchiere. Sostenevano di essere fratelli, cosa che però non sarebbe vera. Lei diceva di fare la badante, di lui invece in paese non si sa quasi nulla, anche perché non parla italiano. Dopo quanto successo però a Scaldasole molti dubitano delle versioni raccontate finora. Anila Rucci comunque viene descritta come una donna gentile e sorridente. Una donna molto dolce, era sempre pronta a farti complimenti. Io la vedevo circa una volta alla settimana da me perché ci teneva molto alla sua presenza, si curava. E poi la vedevo spesso passare appunto davanti al negozio perché da casa sua per venire al bar io sono al centro praticamente. Nulla che in ultimi tempi... No assolutamente, anche nel parlare, sa, solitamente le clienti ci prendono un po' anche come confidenti, ma mi sembrava molto tranquilla. Dai vicini di casa si apprende che lei usciva per andare a lavorare la sera accompagnata da colui che presentava come il fratello. Durante il giorno, a parte le abituali capatine al bar, i due stavano in casa. Loro vivevano il suo mondo lì e di giorno dormivano, almeno penso io perché non si vedevano. Poi la sera andavano al bar e andavano via, non lo so. In paese c'è stato riferito che qualcuno avrebbe sentito delle urla provenire dall'appartamento nella notte precedente al ritrovamento del cadavere. Una circostanza di cui però non abbiamo avuto modo di trovare conferme, così come non è stato possibile avere conferma di un altro episodio riportato da molti e che si riferisce a un pesante atto vandalico ai danni dell'auto dei due avvenuto qualche tempo fa. Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri avrebbero raccolto altre testimonianze sul posto, in particolare dai vicini di casa della vittima.